Buongiorno, buongiorno e buon mercoledì. Il 4 maggio 2016 iniziamo questa nostra giornata come sempre sfogliando i quotidiani nazionali e locali, in particolare le prime pagine, soprattutto poi andando all'interno dei quotidiani locali e anche rivedendo alcuni servizi preparati dalla nostra redazione nelle edizioni di ieri del telegiornale. Iniziamo la nostra segna stampa subito andando a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali partendo dal Corriere della Sera. La giustizia agita ancora il PD, arrestato il sindaco di Lodi, Guerini lo difende, il governo processi, tempi certi. I 5 Stelle bloccano il Consiglio regionale Lombardo per il ritorno di Mantovani di Forza Italia. E poi sotto la testata ancora l'effetto Ragneri, King Ragneri, calcio, impresa Leister, il mister non so come ho fatto. E poi ancora l'editoriale di Michele Ainis, politici e magistrati, i dannosi scambi di ruolo. Al centro la fotonotizia 1976-2016, i crolli, l'identità e la ricostruzione, quella lezione ancora attuale data dal Friuli sul terremoto. E poi in taglio medio il retroscena Renzi e la tutela del partito, nessuna questione morale, questo sempre riferimento al titolo di apertura e all'arresto del sindaco di Lodi. Poi ancora la UE, l'Italia crescerà meno, ecco il decreto sulle banche, giù le borse, sofferenze e rimborsi, nuove regole. E poi ancora in basso, l'Egitto cercò di spiare il PC di Regeni, svelato una mail del ministero dell'interno del Cairo, ordinava riservatezza sul caso. E poi ancora idee e inchieste, l'intervista a Parolin, la Chiesa e la Cina, segnali promettenti. Domani il voto sul sindaco Can, il musulmano alla scalata di Londra. Ed ora andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica, chiaramente l'arresto del sindaco di Lodi guadagna le attenzioni massime sulle principali testate. Ecco qui anche la Repubblica col titolo d'apertura. Lodi in carcere sindaco PD e l'assedio dei magistrati, appalto pilotato per le piscine, idem, arresto sproporzionato. E poi c'è l'editoriale, quelle manette a tutti i costi. Ancora troviamo migranti, la UE apre all'Italia, chi li rifiuta dovrà pagare. E poi di spalla l'inchiesta, rette record, posti vuoti, grande fuga dagli asili, cronano le iscrizioni nelle strutture pubbliche. A casa quattro bimbi su cinque. E poi al centro possiamo leggere qui, addio alle 500 euro per combattere criminalità e riciclaggio. La banconota dei desideri che non vedremo mai più. E poi troviamo in basso, perché io difendo la democrazia del cibo, la Francia si ribella. E poi parla la mamma di Ranieri, la rivincita di Claudio, tradito dalla sua Roma. E ora andiamo con la prima pagina di Libero. Bufera giudiziaria sul PD, un arresto al giorno, leva Renzi di torno. Finisce in manette anche il sindaco di Lodi, renzianissimo, è molto vicino al vice segretario del partito Guerini. Brutto colpo dopo Potenza e Napoli. A Palazzo Chigi sale il nervosismo. Tra i democratici 110 indagati, ecco chi sono e di cosa sono accusati. E poi Popolare Vicenza, l'appello Zonin, lei è ricco, restituisca i soldi a chi ha rovinato. Di spalla, dati euro, stata la faccia del Jobs Act sull'occupazione. Solo la Grecia è peggio. Il sì al referendum e il napolitano continua a tessere la sua tela a favore degli eurocrati. In basso lo scudetto dell'Eister, la rivincita di Ragneri è un miracolo che vale 285 milioni. In basso, sconcerto anche tra i musulmani, dopo il servizio delle Iene, io islamica dico via gli imam dell'odio. E poi in basso, appunto di Filippo Facci, braccia rubate alla saldatura. Prima pagina ora del Fatto Quotidiano che andiamo a vedere. In galera un altro futuro senatore. Il sindaco di Lodi, manette al PD, arrestato per turbativa d'asta Simone Uggetti, erede di Guerini. L'accusa truccava gli appalti. Il numero due dem, persona limpida, catturato mentre cancellava prove dal PC. Appalto truffa, i soldi su quelle piscine assegnate nell'era Guerini. Renzi referendum, anticipare il voto sulla riforma e sacchivare la Corte. L'Italia del sì, Giorgio ci tiene fermi, mentre Matteo ci mena. Poi ancora in taglio medio, guardia di finanza, il generale Mercedes, Toschi, doppio scandalo. Non è vero, come dice Renzi, che dura due anni. Poi ancora, ecco i nostri desaparecidos e al Sisi, cale il bavaglio su Regeni. Reportage dell'Egitto, zero controllo, il pieno segreto di censura svelato per sbaglio. Calciopoli, dieci anni dopo, Tavecchio, Falognorri. La Federcalcio non ha ancora chiesto i danni alla banda Moggi. In basso, prima di me schifo e deserto, Matteo Orwell, ossessione per il passato, nebbia sul futuro. Andiamo ora con la prima pagina del Tempo. Vedremo la prima pagina del Tempo, la prima pagina del Messaggero e poi inizieremo la rassegna dei quotidiani principali locali. Ecco qui il Tempo, questa è l'apertura. Apre l'Università della Sharia alla Cecchignola, la soccursale dell'Ateneo al Hazar del Cairo, corsi nella moschea abusiva. L'Imam, niente paura, insegniamo il Corano. E poi di spalla, appalti pilotati, ancora manette nel PD di Renzi, il sindaco di Lodi, vicino a Guerini. In basso, i nuovi sondaggi raggi sempre prima per il secondo posto. La partita è a tre, ovviamente il riferimento è alle prossime elezioni amministrative a Roma. Parla Mara Carfagna, basta divisioni, ecco perché corro a Napoli. Pedofilia, mancano i soldi, chiuso il centro per i bimbi abusati. E poi in basso per in c'è un portiere a Littori, il giocatore Pontino attacca i tifosi ceciari con gli stupri del 44. E quindi, ora come detto, andiamo a vedere il messaggero nazionale. Anche in questo caso, chiaramente l'apertura è dedicata all'arresto del sindaco Ugetti. Caso giustizia, arresto, scuote il PD, il sindaco di Lodi, successore di Guerini, accusato di turbativa d'asta per le piscine comunali. I PM pilotò il bando per avere voti. Dem in trincea, una persona corretta, fiducia nei giudici. E poi l'editoriale di Giulio Sapelli, Commercio USA, UE, tutte le insidie nascoste nel trattato transatlantico. E poi Champions, atletico in finale, il 2-1 del Bayern non basta, addio Amaro di Guardiola. Tecnologia intesa FCA Google per realizzare l'auto del futuro. Si guiderà da sola. E poi ancora la fotonotizia, il rilancio di Ragneri, il re d'Inghilterra, troppo giovane per accontentarmi. Il mondo del calcio, omaggio al tecnico romano, un grande. Frena il pillo italiano, stime Wayne ribasso, flessibilità si tratta, previsioni di Bruxelles, deficit giù, debito fermo, paduan con rifugiati e Brexit, l'Unione è a rischio. E poi in basso l'orrore di Caivano, i disegni di fortuna che riverano la paura dell'orco. E ora andiamo a vedere le prime pagine delle quattro edizioni del centro, partendo dall'edizione aquilana. Agenzia delle entrate, altra inchiesta, blitz della finanza che porta via dagli uffici dell'Aquila. Atti e computer. E poi in basso troviamo questa fotonotizia, il cappellaio che resiste, io vittima della crisi, l'Aquila e il suo negozio danneggiato dal sisma. E poi ancora alcuni richiami di spalla, pestaggio in villa, costruttore nei guai per il PM. E il mandante a tagliacozzo, una sessantenne truffata da falso avvocato. Le elezioni a Sulmona salgono a sé le liste a sostegno della Casini. E poi Etruria, scontro sfiorato, il viceministro Zanetti contestato dai risparmiatori. Il buongiorno a Bruzzo di Domenico Ranieri è in ospedale, servono pasti vegani. Ancora con la prima pagina dell'edizione di Chieti, Bucano la cella a frigo e rubano carne, allanciano gang di ladri, portavia a rosticini pesce e torte surgelate. A vasto, come vediamo qui da questa doppia foto, rapina nella parafarmacia. Ladro incastrato, si era barricato in casa. E poi i richiami, io povera e beffata da contributi fantasma, istituzioni assenti. A Chieti, a Ortona, sport e formazione, riapre il Don Bosco. I tifosi verso i derby di Pescara, sostegno alla Virtus, ma è rottura. Coi, Maio, trasferimenti alla Tales. Chieti, lettere ai 64 lavoratori, via dalla fabbrica. Prima pagina dell'edizione Terramana, concorso ASL, 6.322 concorrenti. Tra un mese e mezzo la prova per 56 posti da operatore socio-sanitario. E poi al centro, borsa da 27.000 euro a un ricercatore Terramano. Il suo nome è Nicola Cosentino, come leggiamo dalla Didascalia. Borsa che arriva dalla Fondazione Veronesi. I richiami di cronaca, scoperta la banda che spacca i Bancomat, agiva sulla costa. Piano d'accio, la stazione allo stadio, apre il 12 giugno. Ricoverato a Terramo è tornato l'avvocato, investito a Praga. E poi cade dalla scala e grave, incidente sul lavoro nel santuario di San Gabriele. Ed ora la prima pagina dell'edizione di Pescara, che andiamo a vedere. Il tempo tecnico di andare sul nostro iPad. Ciferni, derubato per la settima volta. Colpo alla pizzeria in Corso Mantonè. Pescara sta andando alla deriva. Al centro, terreno e parcheggio è tutto abusivo. Ospedale, il comune si riprende l'area dagli spinelli. E poi i richiami. Il presidente Pescara, Sebastiani, la padula vale 10 milioni di euro. Indagano due procure, agenzia dell'entrata e c'è un'altra inchiesta. Il nuovo allagamento alla guardia medica è un caso a Montesilvano. Cibilon in regola, Francavilla, Blitz dei Nas, chiuso deposito abusivo. Cibilon in regola a scuola. Ed ora entriamo all'interno del quotidiano Il Centro. Andiamo subito nella pagina 7, pagina Abruzzo. La maratona degli aspiranti insegnanti. Che caos al concorsone e chi ci pensa è perduto. Un senso di arrendevolezza per va dei candidati dopo i primi due giorni di prove. In Abruzzo 4163 domande per 1411 cattedre. Ma ci sono dubbi sulle correzioni. Poi ci sono alcune testimonianze. Sei veramente da sola contro la macchina? Che scaduto il conto, blocca la schermata. E chi ha avuto, ha avuto. E chi ha dato, ha dato. Dice Maria Assunta di Crescenzo. E poi anche la testimonianza di Andrea Sansò. La didattica non si improvvisa. In 15 minuti scarsi il tempo che si può dedicare a ciascuna domanda. E poi in basso c'erano una volta 147 biblioteche. In 5 anni sono rimaste solo 67. Nella maggior parte dei casi sono gestite da volontari. Avanti ancora. L'aeroporto Tira ma pesa l'addio al volo per Roma. Traffico passeggeri e aerei per l'estate. Avanti sempre. Parlando di tematiche regionali. Di scariche dimenticate. Conto da 10 milioni di euro. L'infrazione UE ci tocca da vicino. A causa delle bonifiche non effettuate dai comuni. La regione invitata a chiarire come pagare. Ma a rischiare di più. Sono i sindaci. E poi appello del WWF. Polizie provinciali smembrate. Zero controlli sull'ambiente. A proposito di ambiente. Incendi. Volontari abilitati. In 54 superano il corso sul nuovo mezzo cingolato. Elfo 4.0. E poi ancora le pagine di Pescara e provincia. Indagano due procure. Agenzia delle entrate. Altra inchiesta. Dopo le perquisizioni a Pescara. La finanza porta via atti e computer dalla sede dell'Aquila. Sotto accusa favori alle società. Aperto un fascicolo anche a vasto. E spunta la denuncia di un corvo. Controlli interni addomesticati. E poi in basso. Ladri in macelleria. Rubate anche le mannaie. Preso di mira. Soccio Carni. In via d'Avalos. Portati via tutti i macchinari. Vino, prosciutti e formaggi. E ancora quello che non va in termini di sicurezza nella città di Pescara. Settimo furto. In un anno. Ciferni. Città alla deriva. Ennesima spaccata alla pizzeria Trieste di Corso Mantonè. Alle sette del mattino. Il titolare. Da lì ci sposteremo. Ma Pescara deve recuperare la sua bellezza. Ed ecco qui le foto che testimoniano le conseguenze di questa ennesima spaccata subita dalla pizzeria di Corso Mantonè. Ancora sorpresa. Giù altri quattropini in Viale Regina Margherita. Blitz del comune per tagliare dieci alberi. Gli ambientalisti presi alla sprovvista scoppia la protesta del forum dell'acqua. Ma le associazioni sono divise in basso. Mare ancora inquinato a Fosso Valle Lunga. Coli batteri oltre i limiti. Nelle ultime analisi la regione cerca i fondi per eliminare le fosse biologiche. Ospedale sgomberato. Il parcheggio abusivo. Via Fonte Romane. Il comune si riprende. L'area utilizzata dalla famiglia Spinelli per realizzare 50 posti auto. Lavori per 150 mila euro. da ultimare in 90 giorni. Ecco qui poi la famiglia Spinelli. Declino di un clan da 2 milioni. Avevano auto, terreni e appartamenti. Stanno per perdere pure casa. In basso. Rinvii, spostamenti, errori, disagi. Continua l'odissera delle puerpere. Ospedale. Che caos tra Pescara e Penne. E poi parliamo di giudiziaria. Con questa pagina. La maxi causa da 200 mila euro. Sfogo di D'Alfonso in aula. Pettinari distorce la verità. Seconda udienza del contenzioso civile. Tra il presidente e il consigliere. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle invadono il tribunale. Il grillino. Mai diffamato. Nessuno. E su questa notizia andiamo a vedere il servizio preparato ieri dalla nostra redazione. Ha lasciato l'aula nel pieno svolgimento dell'udienza Luciano D'Alfonso. Questa mattina al tribunale di Pescara si è svolto il secondo capitolo in merito al risarcimento di 200 mila euro chiesto dal presidente della regione al consigliere 5 Stelle Domenico Pettinari per diffamazione e lesione dell'immagine in merito al caso della palazzina acquistata dalla regione in via Rigopiano. Un'ora di dibattimento davanti al giudice che ha visto accolte solo parte delle richieste dell'accusa. In ogni caso sono state ammesse le prove per le quali avevamo più attenzione che sono quelle di ricostruire e di dimostrare la reputazione personale del dottor D'Alfonso e quindi quanto questa possa incidere in un procedimento per diffamazione. Un altro punto importante è stato quello che il virgolettato riportato dai giornali faceva fede a un documento prodotto su questo invece si è dibattuto soprattutto per dimostrare qual era la diffamazione. Sì perché noi riteniamo che non sia stato ritrascritto l'interrogazione del consigliere Pettinari ma ci siano state delle dichiarazioni e poi il giornale abbia virgolettato il contenuto dell'interrogazione. Dall'altra parte l'avvocato della difesa ha più volte battuto sull'assenza di prove in merito alla dimostrazione del danno subito dal governatore d'Abruzzo e sul fatto che le dichiarazioni riportate dai media fossero solo un estratto di un documento politico l'interpellanza presentata in consiglio regionale prodotta in seguito al giudice come prova. Comunque noi siamo tranquilli ribadiamo comunque che D'Alfonso non ha mai provato nel corso del processo il danno effettivamente subito e quindi adesso si fa riferimento a questa prova testimoniale ne vedremo l'esito. Un altro punto era quello di chiarire se fosse una persona fisica a rispondere oppure una persona con il suo grado di presidente della regione. Nel caso in cui il giudice decidesse che sussiste la legittimazione attiva quindi il procedimento è andato così insomma nel senso che D'Alfonso era legittimato a stare in giudizio se dovesse ritenere insussistente la legittimazione attiva il processo cadrebbe. Ammessi tutti gli otto testimoni dell'accusa che saranno ascoltati in due distinte tranche la prima il prossimo 8 novembre e la successiva il 6 dicembre. Proseguiamo la nostra rassegna sul quotidiano del centro. D'Ambrosio non ho comprato la laurea, il processo al cosiddetto partito dell'acqua l'ex presidente del lato si difende in tribunale. Ho girato degli assegni al professor Panzone per aiutare un amico in difficoltà. E poi ancora esami truccati all'università, condannato docente d'inglese, tre rinvii a giudizio e una assoluzione. Poi ancora io e Mattoscio insieme, combinazione vincente. Paola Damiani, nominata alla presidenza della fondazione Pescara Abruzzo, parla del suo nuovo incarico. Priorità per la città, polo di alta formazione e Cityplex. In basso, Bocciodromo, 16 anni di bugie. Montesivano, interrogazione di Di Stefano, riapre lo scandalo sulla incompiuta. Cibi non tracciati a scuola, chiuso deposito abusivo. Francavilla, ispezione dei NAS nella elementare Alento. Individuato un magazzino di derrate non irregola che riforniva anche i negozi di alimentari. E poi in basso, a San Giovanni Teatino, malata cronica, costretta a letto a 37 anni. Donna chiede di essere curata in un centro riabilitativo, ma la ASL dice di no. Pagina, o meglio, pagina di Montesilvano. Locali ASL, colabrodo, rambolatori di nuovo sotto la pioggia. Torna l'emergenza per la guardia medica. Il personale sanitario costretto a stendere teli e contenitori per raccogliere l'acqua che continua a colare dal soffitto. Ecco qui appunto i contenitori in questione. In basso, dal collettore scarico sospetto, nel Saline. Video amatoriale visualizzato da 9.000 persone su Facebook segnala uno sversamento di acque nere. E poi ancora, siamo in Val Pescara, ex socialisti fuori dal centro-destra, scelgono Selle e PD per Napoletano. Appenne si va verso il voto, si concretizza sul filo di lana l'alleanza di Petrucci, voluta dal presidente D'Alfonso. Semproni stringe l'intesa anche con alleanza civica, Frisa e i pentastellati per la loro strada. Andiamo avanti con la pagina di Chieti. Io beffata da contributi che non arrivano mai. La signora Roberta vive con 370 euro, in parte pignorati dalla Soget e senza casa. Per un sostegno chiesto al comune di 300 euro dovrà aspettare più di tre mesi. E poi ancora alla Tales, trasferimento alle porte per 64 lavoratori. In basso la cronaca, vediamo qui a Lanciano e a Vasto. A Lanciano i ladri sfondano la cella a frigorifero, furto all'azienda di alimenti surgelati, portati via, rosticini e torte. A Vasto invece si barica in casa dopo la rapina, i vigili del fuoco sfondano la porta di casa, la polizia lo arresta. E poi ancora, ho rilanciato Pompei, ora il generale visita la legione dei carabinieri, Nistri, comandante Ogaden, per la prima volta in Abruzzo, ai cittadini offrite sempre risposte concrete e puntuali. E allora, prima di vedere la pagina aquilana andiamo a fare il nostro break meteo con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, qui sulla costa questa mattina un piccolo scroscio di pioggia, quali sono le ultime? Sì Andrea, la nostra regione è interessata da un impulso di aria fresca che sta scendendo sulle regioni adriatiche di provenienza nord-europea e questo impulso di aria fresca favorirà ancora nelle prossime ore degli addensamenti sulla nostra regione, in particolar modo sul settore orientale dove non si esclude ancora qualche rovescio, soprattutto al mattino. Poi ci saranno anche delle schierite, ma c'è da segnalare comunque la possibilità di qualche addensamento più consistente stavolta sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Non si esclude localmente qualche fenomeno temporalesco, comunque in graduale attenuazione in serata e in nottata, perché il tempo è in miglioramento anche se lo farà in maniera graduale Andrea, perché questa perturbazione pian piano si abbandonerà la nostra penisola, ma lo farà in maniera decisamente graduale. Quindi avremo un progressivo miglioramento del tempo nel corso della giornata di domani e ancora più tra venerdì e sabato. Non ci dovrebbero essere particolari problemi, anzi ti segnalo poi un graduale aumento delle temperature, localmente sensibile però a partire dai primi giorni della prossima settimana, perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione sembra possibile il ritorno perlomeno sulle regioni centro-meridionali di un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che se confermato potrebbe favorire un deciso aumento delle temperature, ma si tratterà probabilmente di una fase temporanea perché sull'Atlantico, sulla penisola iberica, si va scavando una profonda circolazione depressionaria che potrebbe spingere le perturbazioni anche sulla nostra penisola nel corso della prossima settimana. Ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti, Andrea. Quindi caro Giovanni, domenica in occasione del derby così tanto atteso tra Pescare e Lanciano, quali saranno le previsioni? È già possibile dire qualcosa in più? Ma probabilmente non dovrebbero esserci particolari problemi se non qualche addensamento sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata nel primo pomeriggio. Non penso che ci siano condizioni meteorologiche sfavorevoli, quindi insomma alla luce dei dati attuali non sono previste precipitazioni. Poi ovviamente saremo più precisi nella giornata di sabato quando avremo dati molto più attendibili, quindi potremo fare il punto della situazione, Andrea. Grazie, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie Giovanni De Palma, proseguiamo con la pagina aquilana. Geometra pestato, indagato costruttore da Alessandro, accusato di essere il mandante della rapina nella villa di Cafaggi che sbotta, mi hanno rovinato la vita. In basso peculato, inflitti 22 mesi, soldi negati alla ASL, oculista condannato. E poi Banca Etruria ha sfiorato lo scontro fisico, i risparmiatori di Pizzoli contestano il viceministro Zanetti, rivolgiamo indietro i nostri soldi. Pagina di Teramo, presa la banda degli scassinatori pronta a colpire poste e banche. Giulianova, in cinque scovati in una casa del centro, avevano fiamme ossidriche e un sistema elettronico per bloccare le frequenze radio di polizia e carabinieri. Fallisce l'assalto al postamat di Tortoreto. In basso torna l'avvocato investito a Praga, ad Albadriati che il professionista sta meglio, adesso è ricoverato all'ospedale di Teramo. Poi cade da una scala San Gabriele e grave, operaio della confraternità precipita, mentre ripara un lampadario in convento e in rianimazione. Ora, passiamo al messaggero Abruzzo, vediamo la prima pagina, dopodiché andremo in pubblicità. Ecco qui il messaggero Abruzzo, questa è l'apertura laurea pagata, ero bravo. Pescara, l'ex parlamentare D'Ambrosio, si difende nel processo al Partito dell'Acqua, tra le accuse, gli esami universitari comprati, cene, carte di credito e uso dell'auto blu. E poi, sotto la testata, all'Aquila, la stella del piano, Grante, e salta Lisa, un patrimonio da tutelare. Verso il derby di Francesco Cuore Virtus, ma non dite che cerco rivincite. Calcio di Serie B, la Padula dopo il Leicester, in fila c'è anche lo Shakhtar. Ragneri, neocampione in Premier League, ha contattato Sebastiani, ma adesso si è fatto sotto anche il prestigioso club ucraino. E poi ancora, di spalla, Milano al voto piccone, cerca gli abruzzesi per aiutare lupi. E poi ancora, una lettera, sempre per restare in tema, a duemila conterranei che vivono nella metropoli, è l'evento al Marriott. L'intervista, Lolli, il super lavoro del numero due. Al centro, gli invisibili del centro di Pescara, le foto shock, i dormitori della disperazione. Sempre in taglio medio, un appalto sfumato dietro alla vendetta della rapina in villa. L'Aquila, il caso del dirigente picchiato a casa, per la procura il mandante, è un imprenditore. E poi, Università, l'adannunzio, il caso Missioni. E allora, noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi riprendiamo con, il messaggero, con la città, con altri servizi. Di nuovo, buongiorno, e ben ritrovati con la seconda parte di Mattino 6, riprende la nostra rassegna, e riprende, come detto, dalle pagine del messaggero Abruzzo. Qui siamo a pagina 36. Lolli, il super lavoro del numero due, si riparte appunto dal lavoro, da una avvertenza all'altra, il vicepresidente si scopre frontman, Fusilli fa una vita tranquilla, io ho scelto, e non sono pentito. E poi ancora, la crisi ha toccato duro, seguo tutto in prima persona, le piccole imprese boccheggiano, bene, l'automotive. E poi, in basso, tu a spiragli per lo sciopero, arriva il direttore generale, sulla stenzione prevista per il 13, da segnalare l'apertura della CGL, per la legge, sui servizi essenziali. Ortona, cala i progetti a Civitavecchia, vogliamo l'alleanza, da Alessandro, al corso di economia del mare, ci sono opere per 45 milioni di euro, e lavoreremo pure sulla formazione. Ora, la cronaca di Pescara, portici e piazze dormitorio degli ultimi. L'invasione silenziosa comincia dopo le 20, quando i negozi spengono le vetrine, sono in tanti e ognuno ha la sua postazione. Via Sulmona, Via Parini, Corso Umberto, Sacro Cuore, Stazione e Galleria Muzzi, la mappa della disperazione che Pescara ignora. Viaggio nei luoghi degli homeless, un fenomeno di dimensioni enormi, difficile da contrastare soltanto con i blitz. E poi ancora, l'area di risulta, resta la zona più gettonata, una distesa di corpi avvolti nelle coperte, anche sulla Golena. In basso, blizzi interforze per sgomberare l'area occupata dai Rom, completamente privatizzato il terreno di fronte all'ospedale, destinato a ospitare un parcheggio. E poi ancora, laurea comprata, no, ero bravo, difesa a tutto campo di Giorgio D'Ambrosio, sotto processo per gli esami facili, e le spese allegre da presidente del lato. Ho preso anche un 30 e l'ode, la mia colpa è aver aiutato il professor Panzone, un'imprudenza, girargli degli assegni. L'ex parlamentare della Margherita, accusato anche di aver usato l'auto aziendale, per andare al Parlamento. Il PM ha chiesto sei anni per il principale imputato, e pene variabili per gli altri. La sentenza, il 24. E poi ancora, cibo pirata nella mensa scolastica. La elementare a lento di Francavilla al mare, era rifornita da un deposito di genere elementare completamente abusivo. La scoperta dei carabinieri del NAS, durante un controllo, sotto sequestro complessivamente, 700 chili di formaggi. Riscontrate anche lievi carenze strutturali dell'edificio. No comment del sindaco Luciani. E poi, in vista delle elezioni, penne, accordo PD-socialisti, è corsa per un posto in lista. Egnon Napoletano tenta il salto da vice sindaco a primo cittadino, con l'appoggio del gruppo Petrucci. Sfida a quattro per il dopo D'Alfonso, tra gli assessori uscenti, certa soltanto, Margherita D'Agostino. E poi, in basso, Riviera Nord, una vasca per risolvere il problema delle aiuole secche. E ora, all'Aquila, l'ombra degli appalti sul caso Cafaggi. L'imprenditore Walter D'Alessandro, indagato per l'agguato avvenuto nella villa della famiglia del funzionario comunale. Secondo gli inquirenti, alla vittima si voleva far pagare la mancata assegnazione di lavori per la ricostruzione. Secondo gli inquirenti, sono stati gli stranieri a fare razzia nell'abitazione, mentre il mandante aspettava fuori. L'indagato avrebbe simulato la rapina in villa con la complicità di un romeno e tre albanesi. E su questa vicenda vediamo il nostro servizio. All'epoca il fatto suscitò scalpore e preoccupazione in città. Una rapina in villa con tanto di pestaggio al padrone di casa, davanti agli occhi di moglie e figli, il dirigente comunale Carlo Cafaggi, che riportò ferite e lesioni per una prognosi di sei mesi. All'inizio si pensava ad una banda di malviventi, stranieri, che avevano messo a segno il Raiden alla villetta di Sant'Elia, ma il timore generale era che la cosa si sarebbe potuta ripetere, o peggio, sarebbe potuta capitare a chiunque. Oggi, a oltre due anni dai fatti, e dopo le indagini degli inquirenti e forze di polizia, è emerso che sì, la rapina fu messa a segno da una gang composta da cittadini rumeni ed albanesi, ma l'obiettivo era nel mirino dei malviventi da tempo e aveva un preciso mandante. Questa era la tesi del pubblico ministero David Mancini, per il quale, come riporta anche il quotidiano Il Messaggero, fu commissionato da un imprenditore aquilano, Walter D'Alessandro, 44 anni, indagato insieme ad altre quattro persone, tre di nazionalità albanese ed un rumeno, tutti tra i 24 e i 35 anni. Dopo aver preso un Rolex, cellulari e bracciali d'oro e diamanti, il dirigente comunale fu picchiato selvaggiamente da malviventi, prima di essere imbavagliato insieme al resto dei familiari, sotto la minaccia delle pistole. Un pestaggio avvenuto, secondo il sostituto procuratore, perché l'uomo si era rifiutato di indicare dove erano custoditi gli altri oggetti preziosi. Un'azione in pieno stile arancia meccanica, sul quale inizia a farsi chiarezza dopo mesi di dibatti di cittadini e apprensione per un episodio quasi unico nella storia della criminalità del capoluogo. Restiamo all'Aquila, variante sud, il rinvio accende le speranze di chi chiede la modifica. La conferenza dei servizi a Roma sarà giornata a giugno, cialente, duro, l'opera va fatta, la seguirò in prima persona per prestità sul fronte archeologico e paesaggistico. Solo la regione spinge per il sì. E poi c'è questa foto, l'impegno per le New Town, l'Italia dei valori al lavoro, al campo di Cese. E poi ancora il viceministro Zanetti, contestato dai risparmiatori di Banche Truria, attimi di tensione al Dipartimento di Economia, solo l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso ai contestatori di parlare col sottosegretario. Nella Marsica, D'Avezzano, nuovo ospedale fondi ok con polemica. Il parlamentare Filippo Piccone dell'NCD diffonde la notizia del primo stanziamento governativo di 100 milioni. L'assessore regionale Paolucci spiega soldi non fruibili senza di noi. Il ministro Lorenzini ha confermato l'impegno per la sanità abruzzese. Il 27 scorso è arrivato il definitivo via libera del comitato di valutazione. Avanti ancora con le pagine di Chieti e provincia. D'Alfonso, l'ospedale si farà vertice all'ASL con Maltauro. L'impresa Veneta ha presentato nuovi elaborati, così scendono i costi. Di primio chiederò tempi certi. Marcozzi sarà un danno biblico. Visita lampo del Presidente. A giorni convocherà una riunione per esaminare l'intero progetto. Poi ancora in basso, d'annunzio scoppia il caso Missioni. Del vecchio contesta al professor Capasso 30 mila euro di spese per il museo. Interessata la Corte dei Conti. Sindacati, carichietti, soluzioni premature. No alle speculazioni. E poi ancora, andiamo a vasto, a rapina della parafarmacia. Arrestato operaio. Il cinquantenne ha subito utilizzato la metà del bottino per pagarsi la cocaina. È ritrovato a casa con un amico. L'uomo processato per direttissima in tribunale ha patteggiato una pena di 16 mesi di reclusione. Presa di mira anche una donna che aveva appena prelevato il denaro dal Bancomat. Avanti ancora. Siamo alle pagine di Teramo e Provincia. La Team citerà il comune per il caso crediti inesigibili. La di Ranalli. Ricorrere al tribunale farà chiarezza sull'applicazione delle norme. C'è il concreto rischio che i cittadini dovranno pagare di più la bolletta rifiuti. Ermanno Ruscitti, presidente del Mote, ha spiegato perché l'ente pubblico non ha ancora dismesso le quote. E poi ancora crisi verso il rimpastino soft in giunta, chiaramente, a Teramo. Piano Daccio, la stazione per gli studenti dal 12 di giugno. Poi ancora sulla costa, Giulianova, progettavano assalti a banche e poste. Presi, i carabinieri scoprono attrezzi da scasso, tra cui demolitore di muri denunciati. Cinque napoletani avevano il covo in una casa del Lido. Entrati nell'abitazione, i militari trovano soltanto droga, ma tutti gli arnesi erano contenuti in una autovettura nascosta. Apparecchiature sofisticate a disposizione con cui seguire gli spostamenti della polizia. E poi, Frecciabianca, la fermata, ritornerà dal 12 giugno. E tutto questo a Giulianova. Lasciamo anche il messaggero Abruzzo. Andiamo ora a vedere la città, il quotidiano della provincia di Teramo. Questa è la prima pagina. Il mote può comprarsi la Team. L'anticorruzione fa un favore al consorzio. La rivelazione in commissione di garanzia. Sotto la testata, il Cirsu, notaresco, frena sulle forzature aquilane. Il consorzio CSA pronto a lasciare Grasciano. Fusione delle BCC, confronto aperto tra Teramo e Castiglione. Oggi l'incontro sindacale. E poi la fotonotizia al centro. Lo sport, c'eravamo tanto amati. Teramo Calcio, Teramo e Vivarini ad un passo dall'addio. E poi il lutto di spalla, vediamo, si è spento Anchise, decano dei ristoratori a Tortoreto. San Gabriele cade dal carrello nel santuario. Operaio grave. In basso, Giulianova, i carabinieri smantellano il covo di una banda di rapinatori di banche. All'interno della città, la pagina dell'Abruzzo, ha aperto il processo per diffamazione per Pettinari. D'Alfonso ha chiesto 200 mila euro al consigliere per le dichiarazioni sulle palazzine. acquistate dalla ASL. E poi ancora, la gara da 100 milioni. Team Cantone fa un favore al mote. L'intervento dell'anticorruzione sul bando di gara apre uno spiraglio al consorzio per acquistare il 49% della partecipata. Modifiche positive, cambiando alcuni aspetti per la partecipazione alla gara. Il consorzio non sarebbe più escluso a prescindere dal bando. L'anticorruzione, l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e la trasparenza chiamata dal comune di Teramo a seguire la gara Team. E poi ancora in basso, altri due box che andiamo a leggere, l'esternazione, il particolare è emerso ieri in sede di garanzia durante l'audizione del presidente Ruscitti. L'imbalazzo, il PD scandalizzato dalla rivelazione che tecnicamente non doveva essere rivelata, ma che non incide. Avanti ancora, fusione BCC, confronto aperto con Castiglione. I dipendenti di Banca di Teramo rigettano le misure draconiane sugli stipendi. Oggi è l'incontro sindacale. Avanti ancora, con la crisi al comune di Teramo, il Brucchi Ter verso una giunta a otto. Il dimissionario di Giovan Giacomo potrebbe non essere sostituito. Avanti con i tandem e le rotazioni delle deleghe. Il termometro, clima più disteso rispetto a domenica e lunedì. Il tavolo politico allargato agli ex di maggioranza, Fratelli d'Italia e lista civica. Avanti ancora, il teatro romano resta fuori dal piano Franceschini. Il sindaco Brucchi la butta in politica e se la prende con il governo per i fondi. Ma tutto il piano di recupero è un pasticcio. In basso, l'IZS apre le porte agli studenti di Teramo, Rossello e Nereto, barati i percorsi, scuola lavoro del progetto Nativi Digitali all'Opera. Piano d'accio, il primo treno fermerà il 12 giugno. Intanto la rotatoria in costruzione a Colle Parco verrà adottata dall'università che ne farà la porta d'accesso al campus. Giornata da assessore ai lavori pubblici per il sindaco Brucchi in visita sui cantieri in fase di consegna. Poi ancora siamo alle notizie della provincia. Gli aquilani forzano la mano sugli impianti Cirso. Nuovo ultimatum se entro martedì. Non arriva il via libera su organico e discarica pronti a lasciare Grasciano. Garanzie. Il sindaco di Notaresco ha chiesto tutte le garanzie necessarie per tutelare l'ambiente. se riaprono gli impianti non ha norma pretendo una fiduzione che garantisca la spesa da affrontare per eventuali danni. Le soluzioni allo studio ci sarebbe una concessione limitata per riavviare gli impianti che trattano l'organico. Poi la notizia di Cronaca cade dal carrello mentre lavora al santuario grave un operaio 62enne di Colledara impegnato a sistemare una lampada nella cucina del convento di San Gabriele. le indagini sul posto i carabinieri di Isola che hanno sequestrato il carrello ha certamente affidati agli ispettori dell'ASL. E poi l'abbiamo visto in prima pagina addio al decano dei ristoratori di Tortoreto Anchise Sposito uno dei simboli del borgo muore all'età di 90 anni e qui lo vediamo in una foto di famiglia al centro con la maglia rossa. I funerali l'ultimo saluto ad Esposito questa mattina alle 11 nella chiesa di Sant'Agostino e poi ancora l'arma smantella il covo dei latri i carabinieri sequestrano le attrezzature per svaliggiare banche e case a Giulianova blitz delle forze dell'ordine in una casa a Lido 5 napoletani denunciati questo appunto è quanto trovato nel covo dei malviventi attrezzi utilizzati appunto per lavorare per agire sulle banche e poi ancora la polemica corre sulle piste ciclabili Antonio Cerasi attacca sul tracciato rosetano sembra un autoscontro fratelli d'Italia realizzato dai suoi amici Sottanelli e De Vincentis in attesa che vengono presentate le liste ufficiali e la contesa si fa sempre più accesa al comune di Roseto degli Abruzzi e poi c'è il corsivo di Federico De Carolis Silvi in consiglio si vota su Regeni ma non sul piano regolatore e ora andiamo sulle pagine dello sport sempre sulla città Teramo e Vivarini ad un passo dall'addio l'incontro tra il DS Lupo e il procuratore del tecnico non riduce la distanza tra le parti sul tavolo le cifre del contratto che lega l'allenatore ancora per un anno al club ma soprattutto i motivi della frattura che si è creata tra Campitelli ed il mister ultima partita domenica alle 18 appunto l'ultima sfida per i biancorossi impegnati in trasferta sul campo del Ponte d'Era a proposito di questo incontro di cui si parla sulla città possiamo vedere appunto alcune immagini relativa all'incontro che si è tenuto ieri proprio all'hotel Dragonara tra Fabio Lupo DS in pectore del Teramo che qui vediamo mentre entra nei locali dell'hotel e il procuratore dell'allenatore del Teramo Gianluca Libertazzi che tra poco comparirà nelle nostre immagini eccolo qui l'incontro che si è tenuto ieri a metà pomeriggio all'hotel Dragonara ma tanti sono i nodi da sciogliere ed è molto difficile che ci sia la permanenza del tecnico di Ari sulla panchina del Teramo possiamo rientrare sempre sulla città il basket troppo ferentino gli Sharks perdono gara 2 i ragazzi di Tony Trullo subiscono la seconda sconfitta in una partita contraddistinta dalla sfortuna Roseto è riuscito a rientrare in partita ma nei momenti decisivi è mancata la lucidità per l'aggancio definitivo gara 3 si giocherà al Palamaggetti una gara da vincere a tutti i costi altrimenti sarà eliminazione per la squadra di coach Tony Trullo in basso Campi Basket a caccia della semifinale sul campo del Pescara regole severe della società ospitante per l'accesso dei tifosi al palazzetto ricordiamo che gara 1 è stata vinta proprio da Campi sull'amatori Pescara visto che abbiamo introdotto il discorso sport riprendiamo proprio con lo sport e torniamo sul centro le attenzioni sono in casa Pescara prima ancora che sul derby in questo caso sull'uomo copertina della stagione ovvero Gianluca Lapadula che nelle parole del presidente Sebastiani ecco qui vale 10 milioni il presidente mi dispiace per il Lanciano ma il Pescara deve vincere qui c'è una foto tra il presidente che appunto mette insieme il presidente del Pescara Daniele Sebastiani con il patron della Virtus Lanciano Franco Maio verso i derby d'Abruzzo il numero 1 Biancazzurro il DS della Virtus Leone è sotto contratto ma se fosse libero lo prenderei subito ecco qui sempre per quanto riguarda la Padula c'è anche lo Shakhtar per il bomber della B domenica manderà un osservatore ovviamente allo stadio deretico Cornacchia in vista del derby i rossoneri tra le squadre di bassa classifica sono quelli che giocano meglio complimenti a Maragliulo ma anche da Versa sono certo che avrebbe fatto bene Mandragora brutta botta ma supereremo anche questa avversità Oddo ha un contratto se andiamo in arresta se così non fosse dipenderà dalle richieste domenica previsti oltre 10.000 tifosi venduti circa 2.000 biglietti oggi la decisione sulla curva sud ai rossoneri poi ancora pomeriggio di solidarietà per i biancazzurri incontro a Montesimano con i bambini della casa madre Esther di Pineto e per quanto riguarda la Virtus Lanciano si parla di ambiente in fermento sostegno ai giocatori ma i tifosi frentani non perdonano Imaio il pubblico si organizza per la trasferta di Pescara nonostante gli screzzi di sabato con la proprietà abbiano lasciato il segno solo lavoro personalizzato per i centramanti Ferrari il cui impiego sarà valutato nei prossimi giorni e poi ancora per la Lega Pro l'Aquila perde San Domenico espressione blasfema tre turni e stagione finita per l'attaccante Susini serve unità per salvarsi e a tal proposito andiamo a vedere il seguente servizio relativo appunto al cambio in panchine il ritorno di Perrone sulla panchina appunto dell'Aquila calcio abbiamo anche le prime dichiarazioni di Carlo Susini che affiancherà Carlo Perrone in questa sua esperienza bis senza voler scomodare Dante il suo inferno e il drammatico epilogo del campionato dell'Aquila calcio si avvicina molto ai terribili gironi della Divina Commedia tanto grave la crisi di risultati dei Rosso Blu terzultimi e condannati ai play out che l'ultima disperata mossa della società è stata quella di richiamare in panchina Carlo Perrone esonerato l'11 aprile per far posto a Giacomo Modica sulla panchina Aquilana conti fatti solo per tre partite un ribaltone clamoroso che sa tanto di ultimo tentativo per salvare l'Aquila nel calcio professionistico la scelta della società però evince un colossale errore quello di aver allontanato Perrone a sole quattro gare dalla fine un azzardo costato ai Rosso Blu ulteriori tensioni sbandamento tattico e atletico e soprattutto un solo punto in tre gare tanto che ora l'Aquila se dovesse perdere con due reti di scarto contro la Lupa Roma domenica prossima nell'ultima giornata della stagione regolare si ritroverebbe addirittura penultima a salvare dal baratro i Rosso Blu ci proverà quindi l'allenatore che ha sposato il progetto sin da quest'estate e che ha accettato di tornare sulla panchina lasciata un mese fa in memoria dei genitori sepolti all'Aquila Perrone però ha posto un veto l'approdo al suo fianco di Carlo Susini ex allenatore dell'Aquila ai tempi dell'eccellenza ma soprattutto direttore sportivo della Salernitana ai tempi di Perrone allenatore Per quanto mi riguarda ricompattare l'ambiente significa sensibilizzare i giocatori e farli partecipi di un'eventuale impresa rendere in pratica partecipi anche i ricosi che in questo momento hanno avuto a che dire sulle prestazioni della squadra e quindi cercare un attimino di riunirci tutti quanti in un unino blocco e cercare un attimino di passare questo momento con la vittoria sul campo quindi passare e restare in categoria passando per il campo e non per eventuali pescaggi futuri L'arrivo di Sussinia però spiazzato i più il motivo? L'ex Salernitana andrà a ricoprire il ruolo di consulente di campo e di portavoce della società con gli organi di stampa ma in realtà è un direttore tecnico e dunque l'attuale direttore sportivo Alessandro Battisti che fine farà? Ecco il grande dilemma la sensazione che ci sia molta confusione di ruoli e compiti in seno alla società e la poca chiarezza sta anche in questa mossa Di sicuro a fine campionato ci si siederà davanti ad un tavolo per chiarire i ruoli ma al momento si sceglie la via della non belligeranza per puntare dritti tutti uniti all'impresa salvezza Il presente ha tante incognite per l'Aquila invece è il futuro ad avere delle incognite per quanto riguarda il Teramo in senso appunto tecnico perché ecco qui Teramo Vivarini tira aria di divorzio il club vuole ridiscutere il contratto l'incontro di ieri fa pensare alla separazione sempre sul centro calcio a 5 Acqua e Sapone serve uno scatto d'orgoglio stasera in campo in Arazzurri domani Pescara e Montesivano vietato fallire ricordiamo che nella prima partita l'Acqua e Sapone ha pareggiato per 1 a 1 con il caos oggi la gara di ritorno in terra emiliana basket dia 2 playoff Roseto si complica la vita seconda resa Ferentino la McKenergy non gioca bene perde anche gara 2 contro i Ciociari non bastano Weaver Allen e Borra ora è decisiva la partita di venerdì 86 a 74 il finale miglior marcatore per Roseto Kyle Weaver con 17 punti 30 di Imbro per Ferentino per i play out di serie B Vasto si inchina di nuovo a Talento venerdì in casa l'ultima spiaggia 64 a 54 dunque il finale poi ancora studenteschi dominio di Puca e di Cesare atletica leggera le gare di velocità hanno vivacizzato le finali regionali dei giochi sportivi per le scuole che si sono svolti allo stadio Adriatico nella giornata di ieri e ora il messaggero andiamo così a chiudere ripartiamo dal Pescara adesso mi sento leader Caprari prenota un altro gol nel derby Oddo mi ha cambiato la carriera ma anche Zeman è stato un maestro il nostro tecnico mi ha aiutato a correggere quegli aspetti del carattere che mi frenavano poi ancora la padula si muove anche lo Shakhtar sempre in tema Pescara potrebbe ancora slittare il recupero di Crescensi Sponda Virtus Lanciano di Francesco nessuna rivincita solo una grande emozione il Delfino non mi ha riscattato una delusione che mi ha fatto crescere ora il nostro gruppo merita la salvezza Lega Pro abbiamo visto in precedenza il servizio Perrone prova a ripartire ma l'Aquila è una polveriera tensioni in allenamento San Domenico out tre turni Modica e Ranucci si sfogano e poi ancora sempre per il calcio tra Teramo e Vivarini incontro interlocutorio il neo DS Lupo ha visto ieri la gente dell'allenatore e poi ancora per il basket Roseto niente da fare servirà un miracolo Sharks ancora K.O. a Ferentino 86-74 e sotto 2-0 nella serie per evitare l'eliminazione vittoria d'obbligo venerdì in casa i biancazzurri tirano malissimo da tre punti e si arrendono alla serata mostruosa di Imbro Amatori e Campli stasera la rivincita e poi ancora per il calcio a 5 Acqua e Sapone a Ferrara vincere per restare in corsa finiamo qui questa nostra rassegna stampa questa edizione di Mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con il TG nelle tre edizioni principali delle 14 delle 19 delle 23 e poi è mercoledì e quindi questa sera alle 21 l'appuntamento è con Virtus Style di Alessio Gian Cristoforo una puntata ancora più scoppiettante essendo questa la settimana che porterà al derby dell'Atletico Cornacchia tra Pescara e Virtus Lanciano domenica alle 17.30 grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata buona giornata grazie a voi grazie a voi